Ciao a tutti, eccoci qua, eccoci qua, sono da solo, eccoci qua, poi c'è il sole, c'è una nuvola, oggi è nuvolo, c'è il sole coperto da una nuvola, sta spuntando il sole dove mi arriva qua in faccia, incredibile, un video devo fare, è stato nuvolo due ore che ho preparato tutto, adesso sta arrivando il sole, non ci vedo più, non so neanche dove è la telecamera, vabbè, comunque, oggi siccome me l'avete chiesto in tanti, in ogni video vi faccio vedere cosa uso io, cosa uso io, attenzione, cosa uso io, non cosa usate voi, per le lettiere, mi raccomando, prima di iniziare, ovviamente seguici, perché stiamo raggiungendo quasi 30.000 persone, incredibile, questo canale sta volando, grazie ovviamente a voi, ok? Grazie mille, iniziamo! Allora, innanzitutto, per avere, per usare le lettiere, bisogna avere dei gatti, ok? Io ce li ho, haha! Questa è la lettiera che uso io, è una lettiera doppia, ok? Ci siamo, guardate, qua c'è la griglia e qua c'è la lettiera normale, di solito noi abbiamo le lettiere normali e basta, ma adesso vi faccio vedere come funziona questa meraviglia, perché io le ho provate tutte comunque, ho provato la lettiera autopulente, però avendo 5 gatti è difficile, se ne è uno, ok? Ma con 5 gatti che vanno sempre, la lettiera autopulente io l'ho presa, ma non mi sono trovato bene, magari è un buonissimo prodotto per voi, ma io non mi sono trovato bene, la sabbietta, quella che assorbe di più, quella che profuma di più, quella più costosa, e alla fine le ho provate tutte e ho trovato questa che è una bellissima soluzione. Adesso vi spiego come funziona. Kiko, vieni qua! Ehi, Tato, vieni qua che ti faccio assaggiare una bella pralina al cioccolato. No, vieni qua! Sto scherzando, patato, sto scherzando! Vi spiego come funziona, ok? Allora, in questo strato qui si mette un po' di pellet, che si riempie, non proprio pieno, ma proprio un piccolo strato per riempire tutte le estremità, ok? Anche un piccolino strato. E poi si mette fino a metà il pellet, ok? Vi faccio vedere, facciamo tutto in diretta. Abbassiamo qua un attimo. Allora, spiego com'è, peggio di mio nipote, spiego. Allora, qua abbiamo la paletta. Poi non vedo che c'è sto sole devastante. Un sacco di pellet, che per fortuna adesso, da 15 kg, costa 5 euro, 5 euro e 50, massimo 6 euro, o anche meno, si spera, sempre. Più ma costavano un cavolo. Però, sono sempre 15 kg, sono sempre 5 euro, 5 euro e 50, ok? Io cosa faccio? Vabbè, devo fare il figo, faccio così. Tac, faccio vedere, eh. Piano piano. Piano piano, giusto per riempire uno strato che assorbe. Ecco, basta già così. Vi faccio vedere qua. Sì, adesso vi faccio vedere, scende, però vedete qua? Lo vedete il pellet? Un piccolo strato di pellet qua. Gli appoggiamo alla griglia sopra, ok? Adesso vabbè. Faccio così, faccio prima. Ah, guarda che bello. Facciamo fino a metà. Sì, sto facendo un video. Grazie. Salve. Eh, lo so che sembro scemo, ma è così, devo spiegare come funziona. Buona giornata. Eccoci qua. Se vuole, può usare anche lei la lettiera. Guardate. Guardate, guardate. Ecco qua. Adesso la lettiera è pronta, in poche parole. Io poi cosa ho fatto? Su Amazon ho preso una roba che spruzza così, che profuma. Mi do una girata, ok? E il gioco è fatto. Cosa succede adesso? Una volta fatto questa operazione, i gatti vanno a fare i propri bisogni, ok? Cosa succede? Nelle lettiere precedenti, quando noi avevamo solo questa, questa qua piena, era sempre sporca, c'era sempre la pipì in giro, eccetera, eccetera. Invece qua, cosa succede? Che qua sopra già ti assorbe con il pellet, te lo assorbe. Ma te lo assorbe anche sotto. Quindi voi avete sempre la lettiera pulita, ok? Ovviamente io non sono il Giorgio Mastrota delle lettiere, vi sto dicendo cosa uso io. E vi faccio vedere, adesso abbiamo una lettiera sporca. Che è questa qua. Ok? Ovviamente le palline di cioccolato, vi faccio, ce n'è una, se avete un bidoncino, la mettete dentro il bidoncino. Ok, è andata via. C'avete tutti il bidoncino, intanto si trova tutto su Amazon. Ok. Cosa succede? Questa qui è sporca, io faccio così. Vedete? Tutta la segatura, perché poi rimane segatura, no? Avete capito? Scivola. E va sotto l'altra, l'altra lettiera, quella grande. Perché qua la griglia, tipo facciamo una specie di, una specie di setaccio, ok? Tra l'altro poi è ancora buono questo pellet. E guardate qua, vedete? Guardate già, qua già c'ha 4-5 giorni, è già pieno di, questo qua nero perché ho messo il pellet che costa di meno. Ho un sacco di pellet nero, glielo ho messo sotto. E vi faccio vedere adesso, svuotandolo, perché io lo svuoto nell'indifferenziato. Ho già letto su internet quello sporco, va, nell'indifferenziato. Ho il mio bidoncino nell'indifferenziato qua. Gli butto, tutto in diretta sto facendo, sembra che al Giorgio Mastrota delle lettiere. Guardate? Non c'è né una goccia. Vedete? È già pulita. Gli dai una botta qua. Proprio una botticina, eh. Vedete? Si assorbe proprio tutto, è pulita. Ok? Tac, pulita. Non so se si vede. Sì, è un po' sporca di merda perché è normale, se ci cagano. Poi cosa faccio io? Questa qua non la butto perché è ancora buona. Vedete? Faccio così. Ve ne metto qua. Nell'altro strato. Poi qua ce n'è ancora poca, vedete? Ma io cosa faccio? Rabbocco. E li metto il pellet nuovo. Ah, guardate bello. Così la letti era nuova. Però mi raccomando, i gatti sono molto schizzinosi, bisogna pulire ogni giorno. Poi magari molta gente mi dice, eh ma i miei gatti mi pisciano, magari perché le lettiere non gliele lasciate pulite. Vedete? Poi c'è qualche residuo di palle di cioccolato. Tag, bidoncino. E via, tutto dentro il bidoncino. Spruzzettino. E abbiamo preparato un'altra lettiere, sono una e una o due lettiere. Andiamo a preparare l'ultima. Vi faccio rivedere come. Qua è sempre... Setaccio sempre prima. Adesso non so se... Ah, si vede. Vedete qua? Sto facendo così. Qua, vedete? C'è la segatura. Però la segatura poi scende sotto, nell'altra lettiera. Semplicemente. Oh, sembra che sto facendo un corso di cucina, oh. Incredibile, invece sto parlando di... Sono anche serio, oh. Grande. Faccio così. Dai. Ok, do un'altra bella sottacciata. Vedete qua? Guardate qua. Vedete qua? Tutto pellet questo, eh. Tutto pellet che si è formato. E guardate quanto ce n'è. Ok? Ed è tutta segatura che io butto nell'indifferenziato. Vi faccio rivedere, perché mi piace questa operazione. Per farvi proprio vedere la lettiera. Oh, è pulita. Qua è tutto in diretta, ragazzi. È tutto in diretta. Pulita. Vedi, non scende una goccia. Non scende niente. Posso mettere anche la mano. Posso anche fare così. No, così no. Ok, quindi il restante pellet. Faccio così. Lo butto sopra. mettiamo qua. Allora, mettiamo qua. Sempre un piccolo strato per riempire tutti, tutte le parti. Tac. Mi devo anche sbrigare, perché i gatti dicono, oh ma io devo andare in bagno, qua non ci sono le lettiere, ti cago in cucina. No, aspetta. Allora, ho finito. Ho finito di fare il video. Ok? Facciamo così. Tac. Spruzzino. Lo spruzzino ogni volta. Ogni giorno due spruzzatine. Tanto. E' tutto ecologico. C'è scritto pets, quindi non è che dici. Questo qua era quello dei piatti, l'ho cambiato, perché poi dopo a metà non vanno più sti cosi. Non lo so perché. Ho mal di schiena, mi sta venendo. Tutti i posti che c'erano, qua, così. Sembro un granchio, sembro. Finito. Vedete? Allora, ho fatto tre lettiere piene, che più o meno pulendole così una volta al giorno mi durano tipo una settimana o anche qualcosina in più. E c'è ancora altre tre lettiere. Quindi sono due settimane e ci faccio con 5 euro. Con 5 gatti, fra l'altro. 5-6 euro che costa questo un sacco di pellet normale. Ok? E quindi le nostre tre lettiere sono pronte. Aspetta che mi siedo. Ah! Se ti è piaciuto il video, adesso posso tirare su. Se ti è piaciuto il video, seguimi. Se non ti è piaciuto il video, segui un altro. Oh, ok. Mi è già venuto a mal di schiera, incredibile. Mamma mia, sono un rottame, sto diventando. E niente. Alla prossima, spero che questo video ti sia piaciuto. Spero che hai capito tutto nei minimi dettagli. Buona giornata. Ah, e se ti piacciono le mie magliette vai su linucci.com. Ovviamente, questa è l'unica cosa che sponsorizzo. Ciao, buona giornata! Ciao, ciao!